Le musiche provenienti dai sud del mondo, le nostre tradizioni, la memoria che attraversa i secoli grazie alla tradizione orale, nata per valorizzare la figura del cantastorie tradizionale griot, kunti e canti di popoli migranti e giunta alla decima edizione. Il 19 agosto, a partire dalle venti, nel centro storico di Avetrana, si avvicenderanno sul palco musicisti provenienti dai paesi del bacino del Mediterraneo, il marocchino Yamal Wassini, il senegalese discendente di una famiglia di griot Badarasek e il mandolinista, nonché direttore artistico, della manifestazione Mimmo Epifani, accompagnato dalla sua orchestra del Sierro e dal chitarrista degli Avion Travel, Fausto Mesolella. La manifestazione, che si arricchirà anche della partecipazione di altri musicisti che con Mimmo Epifani parteciperanno alla nuova edizione della Notte della Taranta, assume quest'anno un valore particolare, alla luce della presenza della tendopoli di Manduria, nella quale sono tuttora ospiti centinaia di migranti. Noi siamo aperti anche, come si può dire, a tutte le persone che vengono da altri posti e siamo consapevoli che queste cose non dovrebbero più succedere, perché ognuno dovrebbe avere il diritto di stare nel suo paese senza guerra, senza avere problemi di mangiare e di bere, e fare la loro cultura e trasmettere con pace a altri popoli. Oggi alla conferenza stampa di presentazione di Griot era presente anche il musicista portoghese José Barros, che con Mimmo Epifani sta collaborando a un progetto dedicato all'incontro tra la musica popolare italiana e quella lusitana. Il fado non è la musica tradizionale portoghese, è una piccola parte della musica tradizionale portoghese del secolo XIX-X, ma prima questa parte è un'altra, della campagna, di una forma di cantare, che sta dopo all'origine del cantare del fado. Griot, oltre alla musica, prevede anche momenti dedicati alla gastronomia locale per la valorizzazione dei prodotti tipici. Griot, oltre alla musica, prevede anche momenti dedicati alla musica tradizionale portoghese del secolo XIX-X,